Musica Abbiamo voluto questa mostra perché il fumetto è considerato appunto la non arte proprio perché ha raggiunto dei livelli molto alti, è interessantissimo, dei grandi artisti si sono dedicati al fumetto, è una forma d'arte che coinvolge tutte le fasce di età e coinvolge moltissimo i ragazzi. Però bisogna tener conto che il fumetto quando è nato era per adulti, cioè era una forma di entertainment, proprio di svago e lo svago serviva a rendere più liete delle vite di persone che forse a quei tempi erano un po' più dure, americani, che erano un po' più letterati degli italiani, quindi leggevano, nelle loro lunghe trasferte dalla periferia al centro delle metropoli loro leggevano il giornale. I fumetti uscivano a puntate, si chiamavano comics perché erano comici. Sono rimasti comics anche quando poi alla fine degli anni venti sono diventati fantascienza, questa avventura, crimine, gialli, chi più ne ha più ne metta, si chiamano tour al comics. In Italia sono arrivati con un vizio di origine, perché c'è stato l'art director del Corriere dei Piccoli che ha pensato bene di togliere quelli che noi chiamiamo fumetti, cioè questi palloncini di fumo dove c'erano dentro i dialoghi. Quindi in Italia sono arrivati dei personaggi molto importanti come Happy Hooligan di Hopper che è stato soprannominato Fortunello e questo personaggio che era un tramps, cioè un vagabondo che andava in giro per le periferie urbane però aveva una sua visione molto caustica sulla società americana quindi era un personaggio anche intellettuale a modo suo in Italia è diventato un deficiente con delle battute da scemo che erano state messe in bocca, in rima, alla base dei quadretti. Quindi noi per vent'anni, diciamo fino alla fine degli anni venti, in Italia il fumetto è stato massacrato da questa interpretazione errata, era diventato una storiella a puntate per bimbi scemi italiani dell'epoca. Con gli anni trenta Nerbini porta in Italia i fumetti avventurosi, dà una svolta, lascia i ballons e il fumetto italiano decolla. Ed è stato, su e giù come la febbre, un fenomeno editoriale a seconda di decenni e ha permesso anche una serie di persone che non avrebbero mai pensato nella loro vita di fare i fumettari, uno di questi era Guido Crepax, di creare delle cose importantissime. Poi abbiamo avuto la fortuna quando la mostra è arrivata qui, che è una mostra che sta girando l'Europa, perché è una mostra pensata dal Ministero degli Estri per tutte le capitali europee e per un strano scambio del destino. Siccome una mostra del Guercino andrà a Varsavia, fra un po', curata da Gozzi e da altri, quando io ero a Varsavia, dove è partita la mostra, è venuta fuori l'idea, ma portiamo l'accento, cioè è stato tutto in giro, questa è stata l'unica tappa italiana. Cortes, uno dei, direi che, fra i più celebri e famosi art director d'Italia, fumettista a suo tempo e disegnatore di copertine. Gli do il benvenuto, lo ringrazio, e sarà intervistato da Marco Benatti, esperto di fumetti di Cento. Vogliamo parlare un po' di fumetto, e abbiamo quest'occasione di questa mostra, nella quale, tra l'altro, ho visto che sono esposti i suoi lavori, le sue copertine, di criminal, se non ricordo male, e non so, vuole farci intanto un attimo una carrellata di quello che è successo durante questi anni, magari troppo approfondire, ci vorrebbe due ore, o tre, o cinque, di qual è stata la sua avventura, come è iniziata, io non sono nato come fumettaro, in realtà io ho un master di grafica pubblicitaria, e quindi con i fumetti non c'entravo niente. Poi, per un caso fortuito, sono entrato in una casa editrice che faceva fumetti, e mi hanno chiesto se ero bravo a disegnarli, io naturalmente non dicevo no a nessuno, ho detto sì, e da quel momento ho cominciato a disegnare fumetti, non avendone mai fatti. Si vede che c'era già qui, insomma. Dagli anni, dall'inizio degli anni Sessanta, io mi sono sempre occupato di fumetto, disegnandone, facendo copertine, ma soprattutto come art director, controllando e decidendo sulla linea grafica della casa editrice. difatti la corno, tutto ciò che è stato prodotto dalla corno, era sotto la mia supervisione, e addirittura la mia creazione, perché io le facevo addirittura io. Le copertine, le impaginazioni, perché oggi tutto è più facile col computer. Una volta le impaginazioni si facevano sul testo a correre tipografico. Il tipografo stampava delle colonne di testo e il grafico decideva dove tagliarle, dove incollarle. Una volta si impaginava così. Poi ho fatto undici anni all'editoriale corno con Criminas, Satanic, Alan Ford, che tuttora esce, Eureka, gli speciali, i books, insomma la corno era una grande casa editrice. Poi ho fatto degli errori fra i due soci, che era corno e Luciano Secchi, Mass Bunker, si sono separati e la ditta ha fallito, fallito, ha chiuso. E io andai alla Bonelli e dal 75 io sono art director alla Bonelli. E anche lì ho dato, soprattutto nei primi 30 anni, la linea di tutto ciò che riguardava la Bonelli, sia le testate che ho fatto io, i logo, diciamo, sia tutto ciò che riguardava la pubblicità. Poi naturalmente sono andato in pensione, lavoro ancora, ma ho un corridoio molto meno responsabile, un po' più ristretto. Il resto l'abbiamo lasciato ai giovani che stanno emergendo. Così come abbiamo scelto di fare una mostra sul fumetto per coinvolgere delle persone, coinvolgere tutti, ma in particolar modo, delle persone giovani, abbiamo poi ideato il concorso sul fumetto proprio per dare la possibilità ai ragazzi, soprattutto quelli che sono nel momento della loro vita in cui devono esprimere la loro creatività, abbiamo pensato di dare loro questo spazio, di dare la possibilità di esprimersi e di far vedere cosa sanno fare. La partecipazione devo dire che è stata molto ampia perché abbiamo raccolto 17 tavole con 18 artisti, 18 autori. È stata molto ampia perché l'abbiamo fatto in un mese e mezzo, nel periodo estivo, e sono arrivati praticamente da tutta Italia questi partecipanti. Io sono molto orgogliosa e molto contenta perché ho visto le tavole e sono davvero di ottima qualità, quindi mi complimento davvero con i ragazzi perché sono stati molto bravi. Credo che sia stato determinante anche della partecipazione l'alta qualità della giuria che abbiamo scelto. Fanno parte infatti della giuria il curatore a suo tempo della mostra critico d'arte Maurizio Scudiero, accanto a me, la fumettista Elisabetta Barletta, Werner Maresta, l'autore del nostro manifesto. Poi esperti di fumetto come Marco Benatti e Eleonora Benatti che hanno il negozio di fumetti a 100 ed esperti d'arte come il dottor Fausto Gozzi e la dottoressa Beatrice Greco. Poi sono stata inserita anch'io nella mia doppia veste di assessora alla cultura e presidente della Fondazione Teatro, però sono molto onorata di poter far parte di questa giuria. Il titolo che è stato scelto per la mostra si ispira naturalmente a quello che è accaduto l'anno scorso, cioè per il concorso, scusate, quello che è accaduto l'anno scorso si intitola Scosse, il titolo è stato Scosse, volutamente uno stimolo, una provocazione, perché Scosse senza nessuna qualificazione ulteriore ha dato spazio alle persone di poter scegliere e fare ciò che più liberamente credevano, per cui c'è chi si è ispirato al terremoto, c'è chi si è ispirato alle emozioni e ha rielaborato questo concetto in un modo fantasioso. Effettivamente quello che si nota in generale è la passione, l'intenzione e il potenziale. Nel senso che il tema è stato veramente interpretato bene. Chi l'ha interpretato in maniera letterale quindi ha cercato un supporto fotografico ad esempio che ha reso qualitativamente magari la tavola più interessante, chi invece l'ha interpretato in maniera un po' più concentuale e intima e quindi io ad esempio l'ho apprezzato di più, però c'è da dire che le schede tecniche, questa è stata un'ottima cosa, avevano vari parametri di giudizio, quindi si è premiata la capacità tecnica oppure l'originalità e l'idea e la narrazione che è cosa fondamentale nel fumetto perché alla fine il fumetto non è altro che arte sequenziale e narrazione di una storia al di là delle immagini in sé. Quindi questo secondo me farà sì di appianare un po' quelle che sono le divergenze tra appunto questo divario di età. esatto e quindi niente spongo che dal momento che c'è stata un'ottima risposta ci sarà anche un seguito e me lo auguro e io darò la mia disponibilità volentieri quindi complimenti grazie grazie grazie